E ora torniamo a parlare di violenza sulle donne, una vera carneficina. La violenza sulle donne è un fenomeno che non diminuisce e si connota sempre di più come violenza fisica. Queste le parole della consigliera Giuditta Lembo che invita la regione a costituirsi parte civile, così come previsto dalla legge regionale del 2013 contro la violenza di genere. Ascoltiamo. Non solo affermazione della forza fisica ma anche svalutazione e sottomissione, quindi violenza psicologica, svalorizzazione, limitazione, controllo fisico ed economico. Una simmetria di potere che sfocia appunto nella tanto diffusa violenza sulle donne e violenza di genere. E sull'argomento torna in campo la consigliera di parità Giuditta Lembo, anche alla luce dell'ultimo caso di accoltellamento ai danni di una donna termolese. La consigliera chiede alla regione molise di valutare la possibilità di costituirsi parte civile, così come previsto dalla legge regionale del 2013 che prevede appunto la possibilità della regione di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio, aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne o di minori d'età. E' sempre la consigliera a evidenziare il ruolo determinante che le istituzioni devono assumere nell'affiancare le vittime, al fine di infondere nelle stesse il coraggio necessario per affrontare un lungo percorso spesso pervaso da solitudine e sconforto. E' fondamentale, spiega Giuditta Lembo, fare fronte comune, solo così si può dare una risposta concreta e decisa contro questo grave fenomeno. Investire inoltre nella prevenzione di informazione sono altri due aspetti molto importanti e ineludibili. Per quanto concerne la formazione, prosegue la consigliera, siamo tra le regioni virtuose che hanno realizzato due corsi di formazione frutto della convenzione sottoscritta tra l'ufficio di parità da me rappresentato e il centro di documentazione, ricerca e iniziative sulle culture di genere presso l'Unimol, l'uno lo scorso anno e l'altro in corso di svolgimento, che rappresentano un intervento concreto che va nella direzione di specializzare gli stakeholder su come intervenire adeguatamente nei confronti delle persone vittime. L'impegno di ognuno di noi, sia in quanto istituzioni che cittadini e cittadine, è necessario perché la violenza e ogni forma di discriminazione non sono un fatto privato ma riguardano l'intera società. La violenza non è una malattia ma un reato.